Benvenuti al nostro programma Geopolitica del Medio Oriente, questioni e dinamiche regionali di Patrick Bosino. Il Medio Oriente, una regione strategica e complessa. Il Medio Oriente, definito dai suoi confini geografici che comprendono i paesi dell'Africa Nord-Orientale, la penisola arabica, la Turchia e l'Iran, è la culla di antiche civiltà come la Mesopotamia, la Persia e il Levante. La regione è anche riconosciuta come la culla delle tre principali religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islam. I luoghi sacri e i siti religioso sparsi nella regione non sono solo importanti centri di pellegrinaggio, ma anche ancore di identità e fede per miliardi di persone in tutto il mondo. L'importanza geopolitica del Medio Oriente è rafforzata dalle sue caratteristiche geografiche e dalle sue risorse naturali, in particolare petrolio e gas naturale. La regione è una porta strategica tra Asia, Africa ed Europa e controlla punti di passaggio cruciali come il canale di Suez e lo stretto di Ormuz. Queste rotte marittime sono fondamentali per il commercio mondiale e le forniture energetiche, rendendo la stabilità della regione essenziale per l'economia globale. Tuttavia, la diversità culturale, etnica e religiosa della regione, unita ai confini tracciati in epoca coloniale, ha alimentato tensioni e conflitti interni. Le rivalità tra i diversi gruppi, esacerbate dall'intervento straniero e dagli interessi geopolitici, sono spesso degenerate in violenza. Il Medio Oriente occupa un posto innegabilmente strategico nella geopolitica globale, plasmato da una ricca storia e da risorse preziose. Le dinamiche regionali del Medio Oriente continueranno a influenzare la politica internazionale, sottolineando l'importanza di una comprensione approfondita di questa complessa regione. Buona giornata e a presto!